Sgraniamo i fagioni Dopo aver lavato i fagioli li mettiamo in una pentola capiente e li ricopriamo con l'acqua Copriamo e li facciamo cuocere Tagliamo i pomodori Tagliamo una cipolla Tagliamo i ricordi tagliamo il peperone tagliamo le zucchine mettiamo due giri di olio in una pentola aggiungiamo la cipolla all'olio questo procedimento lo facciamo a fiamma bassa dopo aver fatto ammorbidire e imbiondire la cipolla uniamo i peperoni copriamo e mescolando spesso li facciamo cuocere circa 10 minuti uniamo le zucchine e i pomodori nel frattempo si sono cotti i fagioli e li uniamo alle verdure via via uniamo l'acqua copriamo e lasciamo cuocere circa 10-15 minuti profumiamo con il basilico e aggiustiamo di sale nel frattempo con il basilico Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.